È appena il secondo anno del Dante D, eppure sono centinaia le iniziative che in un momento difficile come questo però dimostrano una grande vitalità e una coesione della comunità nazionale attorno a Dante. In fondo lui stesso ci indica la strada, quando alla fine del lungo viaggio all'inferno conclude e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Ecco, arriverà in fretta il momento in cui potremo uscire a rivedere le stelle, tornerà la musica nelle piazze, torneranno i teatri, tornerà la gente che festeggia. Autore dei sovrapposti